Approvato a maggioranza dal Consiglio regionale della Toscana il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 di 11 miliardi e 150 mila euro, che denota la crescita importante della spesa sanitaria, che riguarda l'80-81% della spesa corrente complessiva, che da poco più di 7 miliardi, passa a 7 miliardi e 285 milioni. In aumento anche gli investimenti, anche grazie al ricorso all'indebitamento per 227 milioni, circa se in più rispetto allo scorso anno. Rimane invariato invece, come dal 2014, il ricorso alla leva fiscale. Oltre al bilancio di previsione, sono stati approvati anche emendamenti e ordini del giorno collegati. Io sono molto contento, è una manovra di bilancio che ha avuto la capacità e il pregio di dare molte risposte concrete, un po' in tutti i settori che oggi sono di fronte a una possibilità di sviluppo attraverso investimenti pubblici che facciano da volano, interventi forti sul mondo del lavoro, sulle attività di formazione professionale e di istruzione, sui trasporti e sul sistema delle infrastrutture, sull'ambiente, l'economia circolare e le possibilità di una mobilità sostenibile, sui temi dell'informatica e della connettività che ci porti all'innovazione, su il sostegno alle imprese in un'epoca di ripartenza post-covid. Finalmente sostanziali finanziamenti per il mondo dello sport, per la cultura, per quello che poi è un sistema che vede la Toscana diffusa, il sistema della Toscana, della montagna, dei piccoli centri, con aiuti veri per potersi mettere al pari con il passo di una visione omogenea della nostra regione. Innanzitutto è una manovra che dà risposte alle cittadine, ai cittadini della Toscana, alle imprese, a chi è più in difficoltà. Io ho voluto con forza che ci fossero tre prerogative importanti in questo bilancio. La prima, trovare le risorse per anticipare i fondi europei. Che vuol dire questo? Vuol dire far partire i bandi per la ricerca e sviluppo, sostenere le imprese, mettere risorse per i giovani, lavorare per superare e per abbattere le disuguaglianze. In questo modo noi potremo anticipare di sette, otto mesi le risorse che arriveranno dall'Europa. Questo è qualcosa di molto importante e ci permette di poter dare risposte ai cittadini della Toscana. La seconda, creare un fondo per sostenere i piccoli comuni nelle progettazioni. Oggi i piccoli comuni della Toscana non sono in grado di presentare progetti per poter accedere al Recovery Fund, per poter accedere ai fondi strutturali. Con questa norma noi ricreeremo una task force e metteremo risorse perché loro, anche i piccoli comuni, possano presentare questi progetti e possono accedere ai finanziamenti europei. Questa è l'idea di una Toscana diffusa che noi abbiamo in mente, in cui non ci siano differenze tra le grandi città e i territori più periferici. Abbiamo anche inserito all'interno delle priorità del Recovery Fund la fare in modo che il 5G sia dovunque in ogni territorio della Toscana e quindi anche investimenti pubblici laddove i soggetti privati non vogliono farlo. E infine la terza ed ultima iniziativa è rivolta ai tanti lavoratori della conoscenza. Noi abbiamo fatto un emendamento, un milione e mezzo di euro da mettere a disposizione per quelle che si chiamano le borse Pegaso per finanziare la ricerca, per finanziare i giovani ricercatori. Più di 80 borse che mettiamo a disposizione per costruire insieme il futuro della Toscana. È una manovra importante anche perché è la prima manovra della legislatura. È il momento di passare dalle parole fatti, dal programma elettorale a progetti concreti per dare risposte ai nostri territori e alle nostre comunità. È un bilancio che non aumenta la pressione fiscale, cosa che in Toscana non sta avvenendo oramai da circa 10 anni. È un bilancio che aumenta gli investimenti anche in virtù dell'allentamento del patto di stabilità che era imposto a livello centrale. È un bilancio che contiene risposte per quanto riguarda il sostegno alle imprese, per quanto riguarda le politiche per la ripartenza, la promozione della Toscana. Un bilancio importante per quanto riguarda la sanità sia nelle strutture sia per il rafforzamento di tutte quelle che sono le misure per continuare a contrastare la pandemia, cosa che ancora ci vede fortemente impegnati, soprattutto anche per implementare l'organico del personale sanitario. Quelle persone che dobbiamo veramente continuare a ringraziare perché con grande professionalità e abnegazione stanno facendo il loro lavoro. È anche un bilancio che il Partito Democratico ha cercato di integrare e di arricchire in accordo ovviamente con la Giunta proponendo degli emendamenti che hanno consentito di riattivare un fondo per incentivare la riassunzione dei lavoratori delle aziende in crisi per finanziare le borse Pegaso. Vale a dire i dottorati di quei giovani toscani che studiano in Toscana che noi non vogliamo far scappare, anzi vogliamo valorizzare i nostri talenti, vogliamo che qui continuino a formarsi e a specializzarsi. E poi l'implementazione delle risorse per il fondo progettazioni relativamente alle strade regionali, alla difesa del suolo, insomma anche il riferimento alle risorse della next generation, quindi questi fondi europei che arriveranno e che si uniranno con quelli ordinari del prossimo settennato occorrerà avere dei progetti. Noi da questo punto di vista crediamo che ci sia quindi la necessità di far fronte alle nuove esigenze che sono emerse per le infrastrutture tradizionali ma anche per quanto riguarda la digitalizzazione, la banda larga, il 5C di avere una capacità progettuale. E poi un altro emendamento ha riguardato i fondi per gli istituti storici della resistenza che sono i custodi della nostra memoria, della nostra democrazia ma che sono in grado di custodire e indicare i valori che ci devono sorreggere anche per superare questa importante sfida che è appunto l'uscita dalla crisi sanitaria e l'uscita anche dalla crisi economica e sociale che purtroppo questa ha comportato e che noi anche utilizzando i fondi del bilancio e che arriveranno dall'Europa vogliamo aiutare i nostri territori e la nostra regione e soprattutto i toscani a poterne uscire al meglio e prima possibile. Si naviga a vista, anzi direi al buio perché veramente siamo in mezzo alla tempesta. C'è veramente una linea di continuità rispetto a una gestione che non ha dato buoni risultati in un periodo particolarmente delicato che è quello dell'emergenza sanitaria, sociale e economica che viene dalla pandemia. Quello che diciamo con forza è che veramente la Toscana dovrebbe avere una nuova visione, ci dovrebbe essere una discontinuità. Noi vogliamo una Toscana che torni a correre, non una Toscana ingessata che tra il recovery fund e le manovre finanziarie della giunta regionale invece o sostanzialmente ancora è praticamente al palo. Per quello che noi vogliamo dire con forza è che le risorse derivanti dalle recovery fund dovrebbero arrivare il prima possibile, invece si parla dei prossimi anni fino al 2023, dal 2021 al 2022 il 70% e il resto nel 2023. Dovrebbero arrivare immediatamente queste risorse proprio perché ne abbiamo la necessità. Per quanto poi riguarda le misure del documento di economia e finanza e del pacchetto di altre misure finanziarie, non ci convincono se non in parte. Ci sono alcune disposizioni che trovano il nostro favore ma quello che non ci convince è proprio la mancanza di visione e di strategia. Questo lo diciamo, l'abbiamo detto in aula, l'abbiamo detto fino a notte fonda perché abbiamo terminato i lavori intorno alle ore 2 di notte e quindi per far capire ai toscani che siamo qui e veramente stiamo facendo come si dice le pulci alla giunta Gianni perché vogliamo che si produca, si produca per il bene dei toscani. Alcune disposizioni possono essere veramente favorevoli, altrimenti ad esempio la proroga del mandato dell'amministratore di sviluppo toscana non ci convince, non ci convince il collegamento tra la stazione Santa Maria Novella e la stazione Alta Velocità Foster perché veramente occorrerebbe una nuova valutazione di impatto ambientale rispetto alla nuova funzione che sembra assumere la stazione Foster. Per quanto riguarda la legge di stabilità, anche lì abbiamo numerose perplessità. L'abbiamo motivato in aula e noi siamo qui veramente a spingere per il cambiamento. Una toscana che torni a correre, che si colleghi al centro nord anche dal punto di vista infrastrutturale. Quando si parla di digitalizzazione e di infrastrutture digitali ricordiamoci che sì è un tema determinante perché vengo da una parte di Toscana dove a volte cercare la linea col telefono veramente è un'impresa ma anche le infrastrutture materiali ancora in questa Toscana dovrebbero essere realizzate quelle che contano. Vengo da Rezzo, potrei dire la Due Mari, per fare soltanto un esempio. Si continua soprattutto a parlare di prospettiva e la prospettiva si allontana se non si agisce. I toscani si devono aspettare che finisca veloce questa legislatura e che arrivi un governatore finalmente di centro-destra, che abbia cognizione di quello che stia succedendo, che sia soprattutto contemporaneo, che abbia una visione, che abbia strategia ma che abbia anche consapevolezza del momento difficile che noi stiamo vivendo. Esprimiamo un giudizio favorevole perché all'interno del bilancio, devo dire la verità, molte delle idee del centro-destra stanno lì dentro. Quindi prendiamo atto che ci hanno ascoltato, ci hanno ascoltato gli uffici, ci ha ascoltato il governatore, sostegno alle imprese, sostegno agli ambulanti, sostegno ai ristoratori, sostegno ai tassisti. Però mancano anche tante altre cose, manca un'aiuto alla famiglia, manca un piano organico di riorganizzazione del sistema sanitario, manca come si fa ad abbattere le liste d'attesa, manca il piano vaccinale contro il Covid, abbiamo una grandissima lacuna sul piano dei vaccini anti-influenziali, abbiamo ancora tantissimi anziani che aspettano di essere vaccinati contro l'influenza e non sappiamo se saranno vaccinati contro il Covid. Manca il sostegno agli infermieri, ai medici, a chi è stato in prima linea, manca una riorganizzazione della macchina amministrativa, manca una visione per quanto riguarda l'industria farmaceutica, voglio ricordare che la Toscana è il terzo polo farmaceutico d'Italia e sulla Farma Valley dentro quel bilancio non c'è niente, manca un lavoro organico sui distretti industriali, penso al distretto del Manmo, penso al distretto della Carta, penso al distretto della Conceria e della Pelle, ecco dove sono finite le linee strategiche, non ci sono, ci sono interventi, lo ripeto, spot, non c'è programmazione, questo chiedevamo noi alla Giunta e a questa nuova organizzazione regionale, al nuovo governatore, cioè che ci fosse una visione, non si può lavorare con i piani quotidiani. Oggi siamo in emergenza, bisogna mettere tutte le risorse che noi abbiamo sulle imprese, troviamo ancora dentro quel bilancio ancora troppi sprechi e questi vanno assolutamente tolti, ma dobbiamo mettere assolutamente i soldi che noi abbiamo per sostenere le imprese. Questo vale anche per i recovery fund, lo dico con estrema chiarezza, noi siamo favorevoli a tutto ciò che arriva dall'Europa, ai soldi che arrivano, ma non possiamo pensare che dei miliardi che arrivano in Toscana che quella quantità di soldi venga investito in un momento difficile come questo in digitalizzazione. Andremo a digitalizzare che cosa? Le imprese che non ci saranno più, questa è la verità, ecco perché abbiamo chiesto, abbiamo votato naturalmente contro a questo recovery fund, perché lì dentro non c'è niente, c'è pochissimo per la sanità, non c'è sostegno per le imprese e per le famiglie, ci sono soltanto progetti che in questo momento non servono a niente perché non sono attinenti con la realtà. Durante l'ultima seduta dell'Assemblea regionale 2020, con l'anno ormai volto al termine, i consiglieri regionali della Toscana hanno rivolto uno sguardo al 2021 e ai nostri microfoni hanno parlato dei loro obiettivi e delle loro priorità per il nuovo anno. Beh, chiaramente la priorità ancora deve essere quella di lavorare e investire per la tutela della salute, per l'uscita dall'emergenza sanitaria, quindi riqualificare la nostra rete ospedaliera, rafforzare i servizi territoriali e l'integrazione sociale e sanitaria e poi gli investimenti in infrastrutture e il sostegno alle nostre imprese, sia attraverso i ristori, anche con attenzione a quei settori e a quelle aziende che fino ad oggi hanno avuto meno attenzione da parte del Governo centrale, ma poi anche e soprattutto creando le basi e le condizioni per una ripartenza, perché noi dobbiamo guardare avanti, dobbiamo guardare ad una Toscana che riprende possibilmente a correre il prima possibile, ne abbiamo tutte le caratteristiche e abbiamo anche la volontà come Regione e come enti pubblici, spero nel suo complesso, di dare quel supporto, di creare quella cornice anche attraverso politiche di sburocratizzazione, perché il sistema economico possa riprendere a produrre e dare occupazione. Le priorità ovviamente rimangono quelle dell'economia, soprattutto legate a questo brutto periodo che noi tutti abbiamo vissuto, abbiamo ovviamente una grande pletora purtroppo di persone che non hanno ricevuto niente dai decreti ristorici, che sono rimaste escluse, che hanno bisogno di sostegno, abbiamo da progettare una Toscana che purtroppo sappiamo sarà diversa dopo la pandemia, come sarà diverso probabilmente tutta l'economia nazionale se non mondiale. Dobbiamo lavorare velocemente, perché ogni giorno di lavoro perso per molti dei nostri cittadini può significare non riaprire il proprio negozio, può significare la morte del nostro comparto artigianale che è fondamentale e soprattutto voglio ricordare che la Toscana ha prodotti di qualità, dall'enogastronomico al commerciale, al tessile, abbiamo tre distretti fondamentali che vanno salvaguardati e supportati adeguatamente e abbiamo da pensare a questo, fosse anche che si deve farle notti per cercare di trovare soluzioni, ora è indispensabile farle perché ne va della sopravvivenza proprio di tutto il tessuto sociale. Un grande investimento di sostegno alle nostre imprese perché questo è quello che noi dobbiamo fare, dobbiamo capire che in questo momento noi dobbiamo tenere il tessuto economico che abbiamo fatto da artigiani, tassisti, ambulanti, fieristi, bar, ristoranti, cioè da tutte quelle piccole imprese che in questo momento fanno grande fatica e che tutte le risorse devono essere messe lì a fondo perduto perché quel tessuto commerciale e artigiano è il tessuto che ci potrà servire per ripartire. Se non capiamo questo vivremo una crisi senza precedenti perché andremo ad avere a marzo purtroppo arriverà anche lo sblocco dei licenziamenti e quindi ci sarà la possibilità di licenziare, non ci sarà più la cassa integrazione che sosterrà i lavoratori e quindi i licenziati molto probabilmente non potranno andare da nessuna parte perché lo Stato non ha più soldi, l'unica possibilità è sostenere le attività imprenditoriali e questo lo possiamo fare soltanto attraverso alcune misure, la prima è il fondo perduto, dobbiamo sostenere quello che noi oggi abbiamo. Poi penseremo anche a come trasformare, a come riportare i turisti ma se non facciamo questo e poi l'altra misura che noi dobbiamo fare è sostegno a medici, infermieri, al mondo del volontariato perché chi va a giro negli ospedali, io mi sono fatto un giro anche la settimana scorsa, si rende conto come quel sistema è sotto stress, non soltanto nei luoghi dove c'è il Covid ma in tutto il plesso ospedaliero, anche laddove si fanno i prelevi per esempio alla piastra a Careggi la mattina, chi fa i prelievi è sotto stress perché non sa mai chi si trova di fronte e sono costretti anche a lavorare in condizioni davvero disagiate, sempre con la mascherina, sempre con i guanti, sempre con i camici, quindi quel mondo lì va sostenuto.